Qualche giorno fa su Instagram ho fatto un sondaggio dove vi chiedevo quali erano i tipi di video che vi sarebbero piaciuti sul mio canale e tra le varie risposte intanto ringrazio tutti quelli che mi hanno dato un consiglio e sicuramente ne vedremo delle belle qua sul canale ma tra i diversi commenti ho notato che molti di voi volevano dei consigli sugli acquisti specialmente adesso che c'è il Back Friday proprio oggi mentre sto registrando questo video e quindi perché no faccio questo piccolo video un po' diverso dal solito magari un po' più noioso quindi se cercate del riding andate su altri video li trovate qua sulla mia sinistra o sulla mia destra non lo so ma iniziamo subito andiamo su Amazon vi lascio sicuramente tutti i link dei prodotti che visiteremo oggi qua sotto in descrizione quindi fatevi un giro e guardateli allora iniziamo subito con un prodotto che non può mancare nella vostra cassetta degli attrezzi o quando andate a girare ogni giorno cioè il manometro il manometro serve a fare la pressione delle gomme e quindi avere la pressione ottimale ogni volta che andate a girare specialmente riportarla uguale identica ogni volta che andate a girare così che se sentite non lo so troppo male le mani o la bici che scappa non date colpa a delle cose che non c'entrano perché magari è semplicemente una gomma troppo gonfia o troppo sgonfia quindi manometro importantissimo io ho questo questo qua della Topic ce l'ho da praticamente sempre 5-6 anni non mi ricordo e lo trovate qua su Amazon ad un prezzo abbastanza scontato 22,50€ direi che è un ottimo prezzo e mi sa che lo comprerò di nuovo per averne uno di ricambio nel caso questo si rompa o lo perda il secondo prodotto che vi consiglio è questo set di brugole di chiavi esagonali un po' di tutte le misure della Silverline è una marca abbastanza buona comunque presente anche nei campi gara quindi direi che è un prodotto molto affidabile a questo prezzo 14,18€ penso che lo comprerò sicuramente anch'io da tenere qua in garage e così è tutto più ordinato e abbiamo tutte le chiavi da usare qua e non soltanto quelle nella mia cassetta parlando sempre di attrezzi andiamo a vedere i prossimi due articoli che vi consiglio uno è questo multi attrezzi della Crank Brothers da portarsi sempre dietro si chiama Multi 19 anche qua ha un prezzo scontato probabilmente per il Black Friday e tenetelo d'occhio sicuramente molto comodo ci sono un po' tutte le chiavi anche una smaglia catena ed è comodo da avere sempre nello zaino quando andiamo a girare il secondo prodotto invece che vi consiglio sulle chiavi è questo set completo di attrezzi per la bicicletta non sono un grande fan di questi set però per chi vuole spendere poco qua c'è veramente di tutto ci sono delle chiavi a brugola, delle chiavi a inglesi qua ci sono le chiavi per i pedali, la frusta per il pacco pignoni, un tir a raggi altre chiavi, una smaglia catene e dei levagomme in plastica mentre invece se volete dei levagomme professionali in acciaio che non si piegheranno mai, non si romperanno mai io vi consiglio questi qua questa marca non la conosco però mi sembrano un ottimo prezzo sono molto molto simili a quelli che ho io questi qua ce li ho dal 2007 o 2008 massimo quindi già che non li ho persi è già tanto però sono durati un sacco e super resistenti funzionano da paura piccola pausa pubblicità se non siete ancora iscritti iscrivetevi al mio canale perché ho visto che molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al mio canale quindi non vi costa niente per me è un piacere fare questi video mi diverte però mi piacerebbe anche crescere come canale quindi iscrivetevi attivate la campanellina mettete mi piace ai video condividete questo video se può essere interessante per altri vostri amici e continuiamo con le offerte parlando ancora di chiavi vi consiglio se siete un po' nell'ambiente di comprarvi una chiave dinamometrica io ho questa qua della Mike T anche questa ce l'ho da 3-4 anni quindi ottimo materiale ci sono un po' tutte le chiavi come vedete e la particolarità di questa è che è fatta quasi apposta per le bici nel senso che i chili di torsione che riesce a registrare sono molto bassi perché si trovano molte chiavi dinamometriche a basso costo ma fanno soltanto chili di torsione molto alti e noi nelle bici non serve perché ci troviamo a chiudere anche a 4-6 newton metri mentre invece le chiavi da macchina dinamometriche sono molto più alte vi lascio comunque il link qua sotto in descrizione qui invece si tratta del kit definitivo per la catena praticamente abbiamo una chiave per controllare lo stato della catena se è troppo usurata oppure ancora buona uno smagliacatena un po' più comodo con una maniglia e soprattutto la chiave per aprire e chiudere la falsa maglia questa è una chiave utilissima io ce l'ho eccola qua molto simile a quella molto molto utile per quando dobbiamo fare dei lavori al carro al cambio e dobbiamo togliere una falsa maglia senza smadonnare mentre invece questa è la chiave che vi dicevo prima si incastra da una parte in una maglia della catena e se entra uno dei due lati vuol dire che è consumato oppure no la catena vi lascio il link qua sotto in descrizione a chi invece cerca un supporto per la bicicletta cioè un cavalletto per appenderla per farci dei lavori vi consiglio questi due prodotti uno è un po' più cheap un po' meno costoso questo qua ultra sport supporto da montaggio per biciclette stabile ha un prezzo abbastanza conveniente 49,99 mentre invece vi consiglio anche questo qua della Park Tool adesso non è disponibile però magari va e viene quindi tenetelo d'occhio parlando sempre di supporti per bici ecco questo qua molto molto comodo l'ho visto in un negozio di bici e l'ho comprato anch'io in questo Black Friday semplicissimo semplicemente si mette la ruota dietro lì e la bici sta fissa e ordinata quindi se non avete spazio non volete attaccarla contro il muro questo è perfetto secondo me per quelli di voi che iniziano già a fare un po' di lavori la bici sto parlando di magari cambio pastiglie spurti eccetera questa è una chiave molto molto utile sempre della Park Tool quindi ottima marca e serve per allontanare i pistoni o le pastiglie comunque per tenerli sempre alla stessa distanza quando si fa lo spurgo e può tornarvi sicuramente utile tornando un attimo agli articoli che vi potete portare dietro quando andate in bici da mettere nello zaino ecco questa pompetta della Crank Brothers la Sterling S io ne ho una della Crank Brothers non questo modello ma ovviamente ottima marca la conoscerete tutti e adesso questa qua è un prezzo davvero conveniente 29,63€ quindi tenetela d'occhio e vi metto il link qua sotto in descrizione cambiando totalmente argomento parliamo un attimo di fotocamere action ovviamente io come saprete uso tantissimo le GoPro ne ho due una Hero 8 Black e una GoPro Max 360 ma qua vedo adesso che per il Black Friday c'è uno sconto sulla Hero 9 Black quella appena uscita che non ho provato ma ho visto la recensione di molti miei amici è molto molto buona adesso ho un piccolo sconto di una decina d'euro ma secondo me questa notte scenderà parecchio altrimenti vi consiglio sempre la Hero 8 che è quella che uso io la Hero 8 Black che adesso è a un prezzo di 349,90€ molto molto conveniente mentre invece per quelli un po' più avanzati vi consiglio anche la GoPro Max quella che uso io in molti miei video specialmente su Instagram ma anche qua sul canale adesso ha un prezzo di 458€ e scontata di una settantina di euro quindi tenetela d'occhio andando verso gli ultimi articoli di questo video vi consiglio un Garmin per monitorare tutti i giri che fate il mio è leggermente diverso da questo questo è il modello nuovo però anche questo si trova a un prezzo molto conveniente visto il Black Friday e ve lo consiglio vivamente così tenete tracce di tutti i vostri giri oltre che allenarvi in una maniera corretta tenendo sotto controllo i battiti le pedalate o tutto quello che volete aggiungendo quanti sensori volete anche se non è scontato vi metto anche questo articolo è un cronometro infrarossi ci ho fatto già un video a riguardo e ne uscirà uno definitivo più avanti quando si potrà andare a girare un po' di più si tratta di un cronometro con delle fotocellule così potete prendere i vostri tempi mentre vi allenate è un sistema abbastanza professionale ma soprattutto molto molto comodo e intuitivo vi ricordo che ne dovete prendere due per fare un kit da usare in discesa e vi lascio il video che ho già fatto qua sopra e il link sotto in descrizione come sempre shoes finale verso gli ultimi prodotti vi consiglio questo raddrizza dischi io ne ho uno della di H-Sign che è una marca italiana però questo qua è molto molto comodo adesso si trova a questo prezzo 19,95 però magari scende in questi giorni è ottimo per raddrizzare dischi e parlando di dischi mi viene in mente che vi posso consigliare assolutamente questo prodotto qua eccolo qui il disc recleaner della Macoffe questi prodotti non è tanto bello comprarli su Amazon anche perché li vendono un po' ovunque nei negozi di bici quindi vi consiglio di andare lì però visto che adesso è un prezzo super conveniente 8,98 euro molto molto comodo per togliere lo sporco dei dischi parlando di Macoffe vi faccio vedere questo ecco si tratta di una scatola con all'interno praticamente tutto quello che vi serve per lavare perfettamente una bici abbiamo tre diverse spazzole anzi quattro diverse spazzole una spugna un panno e poi il classico sapone Macoffe un bike protector due oli per la catena e un pulisci catena molto molto comodo il prezzo so che non è bassissimo però può essere un ottimo regalo o un ottimo kit che può durare tantissimo tempo eccoci giunti all'ultimissimo consiglio per questo video per farvi un po' di esperienza un po' di scuola sui video di bici vi consiglio intanto di guardare tutti i New World Disorder e in più questo qua è uno dei miei film preferiti Death Grip fatto da Brandon Faircloth lo trovate qua su Prime Video e vi lascio anche il link per registrarvi direttamente a Prime Video come sapete si trova di tutto su Prime Video ormai film serie tv e tantissimo nuovo materiale molto molto interessante a un prezzo molto molto conveniente bene ragazzi spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto io ho comprato alcuni articoli che avete visto che vi ho consigliato quindi sono tutti prodotti consigliati principalmente da me inoltre prima che non mi dimentichi oggi è uscito il nuovo O-Chain in versione pregio una nuova colorazione secondo me fighissima andatelo a vedere www.ochain.bike e niente per me è tutto ci vediamo in un prossimo video ma di riding ciao a tutti un prossimo video e ciao a tutti un prossimo Grazie per la visione!